Buongiorno, bentrovati, lo avete sentito nei titoli, ci sono nuovi vaccini in arrivo in Basilicata, consentiranno di vaccinare tutti i sanitari, ma cerchiamo di capire quante saranno le dosi disponibili e quante quelle già somministrate con il servizio di Manuela Mele. Oggi sono arrivati quattro confezioni all'aeroporto di Napoli. Ed eccole le dosi destinate alla Basilicata, quattro stock diretti ai centri di conservazione autorizzati in regione, Venosa, Chiaromonte, l'ospedale San Carlo nel Potentino, il Madonna delle Grazie per il Materano. Per quanto riguarda la provincia di Potenza, sono arrivate oggi tre confezioni, ogni confezione di circa mille dosi e una quarta confezione arriverà giorno 13. So che anche oggi è arrivata una confezione destinata a Matera. Dosi, quelle destinate al Materano, arrivate senza intoppi, confermano dalla Prefettura di Matera e già al sicuro a meno 80 gradi nei congelatori del Madonna delle Grazie, aggiungono i vertici dell'ASM. Intanto, sul sito del Ministero della Salute, fermi a ieri sera gli ultimi dati sulle somministrazioni già avvenute. 7.905 vaccini a disposizione, 4.537 i Lucani a cui è già stata somministrata la prima dose, iniettato dunque il 57,4% dei vaccini disponibili. Un dato frutto di una scelta ben precisa, quella di accantonare il 30% circa degli stock per assicurare all'occorrenza i primi vaccinati Lucani anche la dose di richiamo. La situazione però presto potrebbe migliorare. Da domani è stato preannunciato l'arrivo anche dei vaccini di Moderna.